Il settore dei supermercati nel mondo consuma circa 300 teravattora di energia elettrica, tanto quanto l'intera nazione Italia. Mi chiamo Federico Santi, sono docente di ingegneria energetica all'Università di Roma Sapienza. Un supermercato che usi le migliori tecnologie energetiche disponibili oggi sul mercato può risparmiare circa la metà dei propri consumi di energia. Per un supermercato di taglia media, intorno a 1.000-1.500 metri quadri di superficie di vendita, questo risparmio di energia equivale in termini economici ad un risparmio intorno ai 100.000 euro l'anno. Si stima che un sistema di automazione, controllo e monitoraggio dei consumi di energia possa contribuire a risparmiare un ulteriore 10-15%. La 3PC è un general contractor che lavora essenzialmente per la grande distribuzione organizzata. Realizziamo progetti ad alta efficienza energetica e realizzazioni di impianti tecnologici, elettrici speciali ed impianti frigoriferi per supermercati. Mi chiamo Cristiano Natelli, ufficio tecnico di 3PC. Per il progetto del punto vendita CONA dei Vici da Vecchi abbiamo utilizzato la piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric. Con questa soluzione riusciamo a monitorare costantemente i consumi elettrici e a controllare il corretto funzionamento degli impianti, così da poter intervenire tempestivamente in caso di guasto. In Schneider Electric abbiamo trovato un partner ideale per i nostri progetti di efficientamento energetico, per qualità dei prodotti, rispetto dei tempi di consegna e assistenza qualificata. Grazie a tutti.